Oggi è una giornata importante per Pescara e per l'Abruzzo, una giornata importante soprattutto per la nostra riserva danunziana. Istituita con legge regionale 96 del 2000, nel 2020 ottiene il piano di assetto naturalistico. È stato votato oggi in consiglio regionale. Il piano di assetto naturalistico è in realtà il piano regolatore speciale dei 56 ettari della nostra riserva pescarese. Riserva che è uno scrigno di ambiente naturalmente, di natura, ma anche uno scrigno culturale fondamentale anche se troppo antropizzata. Vari tentativi nel corso degli anni, nel 2001, nel 2002, nel 2009, nulla, non si è mai arrivato al piano di assetto naturalistico. Ci si è arrivato oggi con un documento che è sicuramente migliorabile ma è un passo che non potevamo assolutamente mancare. Per questo ringrazio i funzionali del comune di Pescara che se ne sono occupati, il consiglio comunale di Pescara che il 23 novembre del 2018 ha deliberato le norme tecniche di attuazione per la nostra riserva. Nel corso di questi anni la riserva è cambiata e anche queste norme comprendono dei cambiamenti già programmati. Voglio ricordare per esempio che con i fondi Masterplan è previsto il pendolo di via Patini che consentirà a due parti della riserva di unire e di eliminare un'altra strada. C'è poi un emendamento concordato con le associazioni ambientaliste, emendamento che consentirà di allargare il piano di zonazione e le carte di proprietà della nostra riserva e con altre zone ugualmente meritevoli di tutela. Sette tavole, un documento complesso ma tre appunti li voglio fare. Il primo riguarda l'articolo 13, la zona D1, aree dunali. Le aree dunali sono un elemento tipico del luogo e dell'originario paesaggio costiero. Dovevano nascere delle dune in base a un nostro progetto che abbiamo quasi terminato. È già nata l'area retrodunale, le dune sono comprese anche in questo articolo 13 ma in realtà sono state eliminate con un ordine di servizio del dirigente. Su questa vicenda dovremo andare a fondo. L'articolo 15 che comprende delle aree attrezzate nella zona E1, area che dal demanio è arrivata al comune di Pescano nell'ambito del federalismo demaniale che sorge dietro via Pepe che l'estate viene utilizzata, essendo fuori dal recinto della riserva, anche come parcheggio estivo. Nascerà lì un'area camper che è un movimento, quello camperista veramente importante, la città di Pescara non può fare a meno di avere un'area camper. E poi il terzo aspetto che riguarda gli stabilimenti che fanno parte del piano di assetto naturalistico che nel corso degli ultimi 20 anni hanno dovuto attenersi alle norme transitorie della legge 96 del 2000, norme molto più restrittive del piano demaniale. In realtà qui otteniamo una variante al piano demaniale che consentirà a questi stabilimenti nel pieno rispetto del rapporto tra spiaggia e riserva di poter operare al meglio. 20 anni sono stati necessari per il piano di assetto naturalistico, ci auguriamo che non ce ne servano altri 20 per dare seguito a questo emendamento che abbiamo concordato con le associazioni ambientaliste e per far nascere il comitato di gestione della riserva dannunziana, che è un comitato consultivo importante che collabora con il vero gestore della nostra riserva e cioè il comune di Pescara.